Il conto alla rovescia per la prima campanella è iniziato, il nuovo anno scolastico 2019-2020 parte con i collegi dei docenti ma con un problema non da poco perché all'appello mancheranno tanti professori, circa uno su cinque. Vanno infatti ancora assegnate numerose cattedre al personale precario con stime sindacali che arrivano fino a 200.000 insegnanti da trovare. Mancano anche 20.000 lavoratori di supporto, ovvero il personale amministrativo, tecnico e ausiliare. Tra le cause della mancanza di cattedre coperte adeguatamente ci sono le tante uscite previste per quota 100 e il mancato via libero definitivo del DL Scuola Precari varato in Consiglio dei Ministri ma rimasto incagliato nella crisi politica di fine agosto. La situazione è d'emergenza, se il prossimo anno quota 100 verrà confermata, il trend continuerà a salire, spiegano dai sindacati, anche perché l'età media dei docenti italiani è alta. Anche per la Will Scuola i numeri sono indicativi dell'emergenza. Il sindacato prevede tra 150.000 e 180.000 supplenti a cui dover far ricorso per consentire l'apertura della scuola, con l'aggravante che le graduatorie sia per le supplenze che per i ruoli sono in alcuni casi esaurite. Intanto per gli studenti si avvicina il temuto primo giorno, si inizia il 5 settembre in provincia di Bolzano, seguito dal Piemonte che apre i cancelli il 9.